Musica Sei di Udines e questa manifestazione organizzata dalla Cristina Comici Ha avvicinato tutto quanto da un gruppo su Facebook Dobbiamo scoprire cosa sta succedendo e sentire la gente cosa ne pensa Questa è una festa Cristina Comici, sei di Udines e diciamo che c'è un qualche, forse più di un migliaio di persone Ti aspettavi un risultato del genere? Assolutamente no, sono felicissima e molto sorpresa Devo dire che speriamo che continui anche così più tardi Da cosa è nata l'idea di aprire il gruppo sei di Udines e? Domenica 26 gennaio con il mio compagno abbiamo visto che c'era un gruppo simile a Pordenone E visto che non c'era Udine ha detto, boh, apro io, tanto non porta via lavoro Proviamoci Proviamoci e invece ha portato via un sacco di lavoro, un sacco di gente, un sacco di situazioni e un sacco di emozioni E abbiamo cominciato con 20 persone e il giorno dopo c'erano già mille E ogni giorno c'erano sempre di più, sempre di più e tutti che ricordavano, postavano foto E' stato veramente, veramente bello Quanti iscritti ha il gruppo adesso? 9.300 quasi? Siamo quasi a 9.300 Sì 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 E stanno entrando comunque un sacco di persone ancora Allora, buona festa e complimenti per questa bellissima iniziativa Grazie mille, grazie a voi di esserci Sei di Udine se? Sì, andavi a mangiare i panini al coccodrillo e tornavi indietro alle 8 e mezza e Piazza San Giacomo era deserta tutte le sere Sei di Udine se? Se bevi lo spritz! Spero vi state divertendo anche voi Sei di Udine se? Ti diverti qua con noi anche stasera Sei di Udine se? Sei di Udine se? Sei di Udine se? Sì, sono molto orgoglioso di essere fiulano Amo la mia città, amo i miei amici, amo le mie donne Amo tutti i fiulani del mondo Quelli che sono qua e quelli che sono all'estero Vi amo tutti, questa è una festa eccezionale E siamo un gruppo fantastico Un bacio a tutti, grazie, grazie, grazie Sei di Udine se? Se? Viene la festa? È alimentare Sei di Udine se? Sei di Udine se? È una bella manifestazione e mi auguro che stasera, anzi sono certa che stasera ci saremo in tanti Praticamente Mumucca è una frase che è stata detta per caso così da Comici Cristina, l'organizzatrice di questa manifestazione E noi appunto, tutti quanti appunto dello staff hanno deciso di creare queste bellissime magliettine Venite tutti quanti ad acquistarle che è un ricordo piacevole e fantastico Sei di Udine se? Ullamucca è comunque la festa, la festa che dà a tutto questo gruppo virtuale la realtà della piazza E l'incontro è il piacere di vedersi e di condividere tutto Sei di Udine se? Sei di Udine se? Ullamucca Sei di Udine se? Se mangio tortellini con i piselli Sei di Udine se? No Sì siamo qua Siamo qua a preparare per voi un po' di prosciutto Cotto nel pane Brittorini della nostra laguna di grado ovviamente che veniamo da là Non so cosa dirgli, sono un po' confuso perché adesso ne ho un po' di lavorare Sei di Udine se? Sei venito in centro con il ciao e il promo alto per andare in piazzetta sabato pomeriggio La domanda è sei di Udine se? Sei di Udine se? Sei anche stasera sei rienuto in piazza qui con noi Perché uno dei motivi è proprio quello di far dire sono di Udine ed è giusto che giro per Udine e mi diverto per Udine In tanti si lamentano che non c'è mai niente Stasera vediamo in quanti rispondono al nostro appello E vedo che comunque sono già in tanti ad essere venuti 38 Dopo 90, 60, 90 E poi viva Ullamucca! Sì, sei di Udine se? Sì, sei!